Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite. Lunedì 10 giugno 2024 torna Mairo Accademia sullo shop giornaliero di Fortnite. Devo vedere insieme tutte le novità di oggi e poi ci vediamo più tardi con il video mappe creative. Chiedo scusa per il video uscito ieri di domenica senza audio. È stato un piccolo incidente e quindi è uscito senza la voce. Potete supportarmi, questo è il codice creatore, lasciate un bel like, condividete i video con i nostri amici e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando attivando la campanellina perché tutti i giorni escono un paio di video dedicati a Fortnite e quasi tutte le sere siamo in live qui sul YouTube o sul sito Viola. Trovate tutti i link nella home di Instagram dove trovate il link qui nella home di YouTube. Detto ciò, di novità degne di nota non ce ne sono, sono tutti i personaggi di Mairo Accademia usciti già in precedenza quindi hanno fatto proprio un reshop totale dei personaggi che abbiamo già visto nei scorsi mesi, nelle scorse settimane e nelle scorse stagioni. Quindi nulla di nuovo, c'è ancora Dragon Ball anche oggi che è uscito qualche giorno fa e quindi se shoppate mi raccomando usate il mio codice creatore che verrete ringraziati personalmente qui in un prossimo video. Detto ciò, noi ci vediamo qui tardi, vi auguro una buona giornata, un buon game e a livello e vi auguro una buona giornata, un buon game e un buon game e un buon game e un buon game e un buon game. Grazie. 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 Grazie.